L'estrazione del santo protettore è una tradizione prevalentemente frangescana che si è diffusa tra i laici. A inizi era la comunità dei frati guidata dal superiore del convento ad estrarre a sorte l'immaginetta di un santo che diventava da quel momento il proprio patrono per tutto l'anno. Successivamente questa tradizione ispirata da San Francesco d'Assisi è stata fatta propria anche dai laici. Padre Eugenio Galignano, rettore della Basilica Santuario San Francesco Antonio Fasani di Lucera ci spiega l'origine e il senso di questa tradizione. Avere un santo come compagno di strada nell'arco di tempo che è costituito dallo scorrere dei 365 giorni dell'anno nuovo. Poi San Francesco che ha avviato questa tradizione di estrarre materialmente come abbiamo fatto stasera le immaginette dei santi o è stata una elaborazione successiva? E' più una elaborazione successiva. Da San Francesco noi ricaviamo semplicemente l'esortazione ad avere come compagni di vita coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede e nel segno della santità. Lui invitava praticamente ai suoi seguaci, cioè a chi lo seguiva chiaramente, di ispirarsi ai santi. Da qui è nata l'idea di estrarre i santi protettori? Sì, San Francesco d'Assisi aveva a cuore soprattutto la figura di Gesù storico, la figura di Gesù nella sua esperienza umana e divina. Per cui aveva una grande venerazione soprattutto per il nome di Gesù. Testato anche egli la necessità, l'urgenza, l'apertura ad una figura guida nell'esperienza umana quando esprimeva il suo culto nei confronti dell'Arcangelo San Michele. L'Arcangelo, come tutti gli angeli, lo dice la parola stessa di questo termine, gli angeli sono messaggeri di Dio. San Francesco si è recato due volte, pellegrino, nella grotta o presso la grotta dell'Arcangelo San Michele. E da qui poi l'elaborazione nell'arco dei secoli di questa pratica della scelta del Santo Patrono all'inizio dell'anno. Nient'altro ovunque si desideri, nient'altro si voglia, nient'altro ci piaccia e ci sottischi, se non il creatore e redentore e salvatore nostro, solo per Dio e che è pienezza di bene, in totalità di bene, con le terza di bene. Così, a conclusione della Messa Vespertina del 5 gennaio, dopo la lettura di brani tratti dalle fonti francescane, si è proceduto all'estrazione del Santo Protettore. Abbiamo intervistato anche alcuni fedeli. Lei? San Luca, evangelista. San Luca, evangelista, la signora cosa ha pescato? Sant'Anna e San Giacchino. Due santi, non le bastava uno? No, e beh, qua sono marito e moglie, Sant'Anna e San Giacchino, io mi chiamo Anna. Quale Santo Protettore ha pescato? San Buonaventura. Beata Vergine del Carmelo. Fortunatamente ho preso anche questo, fortunatamente. San Federico, cosa pensate di questi Santi Protettori, di questa usanza francescana di assumere un Santo Protettore della propria vita durante quest'anno? Intanto, insieme all'Angelo Custode che tutti abbiamo, ci auguriamo che quest'altro Santo ci dia ispirazione di vita nella vita quotidiana e ci dia lo sprono per andare avanti e risolvere le nostre problematiche giornaliere. Per farci credere di più nella Chiesa, perché è l'unica casa che noi non avremo mai tradimenti e che ci possiamo fidare delle persone che stanno dentro. San Vincenzo Federico, 5 aprile, è il pensiero invece di San Francesco d'Assisi. Cosa pensa? È una bella cosa questa della... Beh sì, senz'altro. È da anni che fanno... Lei si affida, chiede protezione al Santo che ha pescato? Certo. Io mi affido prima a Madonna e poi so. Ho sempre tenuto in considerazione questo sorteggio del Santo Protettore. E di ogni Santo Protettore ho cercato sempre di sapere notizie. Un Angelo Custode particolare diventa il proprio protettore e mediatore a cui affidarsi, conoscendone ed apprezzandone carismi, opere e spiritualità. Un modo per far incontrare fede e vita di ognuno.